e riviusi a sml ciao a tutti ragazzi oggi andremo a fare lo squid game quindi andiamo subito a preparare il tutto 1 2 3 go allora accendiamo il fuoco fatevi aiutare di un adulto perché visto che si usa il fuoco vi fate aiutare di un adulto allora andiamo a sciogliere il nostro zucchero intanto stiamo vedendo che inizia già a sciogliersi quindi continuiamo a mescolare ecco qua che il nostro zucchero è quasi sciolto ok ragazzi spegniamo pure i fornelli il nostro zucchero è sciolto e andiamo ad aggiungere il bicarbonato eccolo qua e adesso andremo a vedere la magia guardate come si gonfia guardate che roba ragazzi mio dio è uno spettacolo lo gonfiamo lo gonfiamo mescolate mescolate andiamo a metterlo nella carta da forno subito 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 così e abbiamo un altro qua ne facciamo un altro un altro piccolino qua ok perfetto fantastico ragazzi allora attenzione qua si sta staccando allora andiamo a schiacciarlo leggermente così che bello ragazzi è bellissimo dopo di che andiamo subito a formare i nostri stampini aspettiamo un po' che si raffreddi un attimino andiamo subito a fare gli stampini ok forse è venuto forse ok andiamo a fare gli nostri stampini così così mi si è incollato tutto ragazzi speriamo che venga perché veramente volevo affilare un attimo qua ok forse ce la facciamo forse ormai si è già seccato ragazzi non so cosa salta fuori però ve lo dico la stella forse mi lascia un po' desiderare ancora un po' morbida quindi proviamo a è venuta è venuta è venuta ragazzi è venuta è venuta la stella bene 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 andiamo a scliccare un po' di più qua ok e qua quasi già seccato è anche sottile ragazzi non so cosa verrà fuori comunque io spero che sia una cosa fantastica allora ci vediamo tra poco ok ed eccoci qua con i nostri squid game andiamo subito andiamo subito a vedere oh oddio una parte mi si è già staccata ok andiamo subito a vedere se riusciamo a a fare questo giochino allora andiamo a grattare grattiamo grattiamo e vedere cosa prenderà fuori ok andiamo subito a grattare piano piano allora ho l'ago che mi sfugge di mano ok allora andiamo a grattare allora un po' duro da grattare oh oddio si è tolto un altro pezzo aspettate mi è caduto lo tiro su oddio si è tolto un altro pezzo dai andiamo avanti così ok piano piano grattiamo piano piano non voglio rompere tutto è un dispiacere rompere tutto quanto allora andiamo oh signore ragazzi aiuto allora paura 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 ragazzi paura addio aspetta che andiamo piano piano lento 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 si è tolto si è tolto un altro pezzo ragazzi oddio 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 questo qua è tra l'altro il cuore è quello un po' più profondo allora andiamo a grattare grattiamo 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 oddio bellissimo allora vediamo di qua ci siamo fasi mi sa che tra un po' esplode tra un po' esplode e si stacca si stacca si stacca si stacca forse oddio aiuto non pensavo fosse così duro però ai ragazzi cioè veramente cioè vediamo no si deve staccare da solo è è durissimo ah no beh ne manca un pezzo questo qua oddio ah ce l'ho fatta ragazzi ce l'ho fatta oddio quasi perché un pezzettino in realtà vedete era rimasto qua però dai quasi quasi dai quasi quasi questo siamo a quasi mangiamo un pezzo la stella la lascio per ultima adesso provo l'altro cuore dai uno un po' è venuto venuto si fa per modo di dire allora andiamo a vedere questo paura io oddio ma si è staccata una gran parte dai ce la possiamo fare ce la possiamo fare no ragazzi la curva è venuta la curva è venuta ragazzi la curva adesso dobbiamo vedere il resto però io dai sto mi dirò allora allora forse forse viene dai 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 staccati 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 oddio ragazzi staccati 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 e allora ti stacchi oppure no dai aiuto dai andiamo piano piano lento lento un altro un altro pezzo un altro pezzo si è staccato aiuto attenzione perché qua la punta è delicatissima quindi bisogna fare proprio una bella scalata piano piano mi raccomando che qua la punta è pericolosa siamo in pericolo con la punta qua quindi dobbiamo stare attenti ok quindi scaviamo piano piano dai dai forse ci siamo forse forse io aiuto allora aiutatemi andiamo piano 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 perché qua c'è la punta e non voglio oddio oddio si è staccato si è staccato qua ragazzi aiuto allora no no ce l'avevo quasi fatta ragazzi no ecco si è staccato tutto ce l'avevo quasi fatta niente no devo essere più paziente però dai un cuoricino è venuto dai un cuore vediamo la stella se viene la stella è difficile ragazzi la stella dobbiamo impegnarci ok allora la stella mi voglio impegnare a farla allora no ragazzi mi si è rotta la punta niente diete da fare la stella noi continuiamo però mi si è rotta subito eh niente ragazzi è difficile però vediamo se riusciamo a mantenere le altre punte almeno perché una punta ormai è andata vediamo se riusciamo a tenere le altre ci siamo dai le altre punte forse ce la facciamo no ragazzi mi sto divertendo un casino veramente allora stiamo con lo squid game qua allora quasi ha solo una frana con lo squid game qua io niente ragazzi ragazzi questo è il risultato ecco e quindi adesso ora mangio anche un pozzettino l'unico che era quasi venuto diciamo è questo cuore qua comunque dai ragazzi ho fatto un esperimento con voi e quindi dai ci vediamo al mio prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao ciao